e buona sera si siamo live amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti aspettate che muto qua che altrimenti sento l'eco postumi del merge è il titolo della live di oggi su twitch vediamo come la intitolerò poi su youtube perché di fatto ci concentriamo sul mercato sulla price action sulle cose che stanno accadendo in questo giorno appunto dopo il merge giorni all'insegna del dump oserei dire per ethereum soprattutto ma anche un po per bitcoin dump è una parola grossa ma in questi ultimi giorni diciamo che la tendenza è stata quella stiamo andando a vedere di nuovo se reggerà il range low a 19.000 tra poco ci arriviamo e vediamo di ragionare un po su quelli che potrebbero essere gli scenari alla luce di questa bull trap a tutti gli effetti che c'è stata bull trap poi è una parola grossa perché qua ciò che ha influito di fatto è stato il dato sul cpi americano tra l'altro si avvicina sempre di più il giorno del funk si avvicina il giorno in cui vedremo se la fed aumenterà i tassi di 75 o addirittura di 100 punti base aspettate che voglio andare a vedere come stanno messe le probabilità ora come ora mancano 5 giorni al funk ragazzi la tensione è palpabile 14 per cento quindi il mercato diciamo che prezza ancora in maggioranza un aumento di 75 punti base speriamo a sto punto che non aumenti di 100 se no arriva un'altra ramazzata sulla fronte perché ricordiamoci che se il mercato prezza di più una soluzione positiva non so se definirla positiva o negativa abbiamo avuto testimonianza di questa stessa cosa il giorno del cpi il giorno del cpi il mercato ci è arrivato con comunque una certa dose di euforia sul breve ovviamente sto parlando sei candele verdi a fila giornaliere e poi il cpi ha tradito questa euforia no ci ha mostrato un dato negativo superiore alle aspettative e questo ha scosso tutto quanto quindi se si arriva ad un evento chiave come il cpi come il fom che come tutti questi dati macroeconomici che ad ora sono i principali market mover se ci si arriva con un certo come si può definire un certo bias che sia positivo o negativo e poi quest'ultimo viene tradito capite bene che abbiamo una reazione amplificata quindi attenzione al fom che potrebbe riservare sorprese se il mercato di fatto prezza con maggior probabilità un aumento di 75 punti base poi si trova un aumento di 100 che dire c'è buona probabilità di avere un bello scossone cinque giorni mancano quindi sabato domenica lunedì mercoledì ragazzi mercoledì 21 settembre e alle ore cosa erano le ore 14 e 30 italiano mi ricordo comunque seguitemi su telegram che vi aggiano in tempo reale su tutti gli eventi importanti da seguire che muovono il mercato al di là di questo abbiamo tutti i postumi come dicevamo poco fa del merge quindi alcune dichiarazioni di gary gensler della sec alcune come si può dire alcune parzialmente sbagliate informazioni che circolano riguardo alla centralizzazione di ethereum adesso anche lì dobbiamo puntualizzare bene le cose perché per quanto io mi sia sempre espresso sul fatto che il proof of stake tende a una maggior centralizzazione non bisogna neanche esagerare le cose dicendo che adesso è tutto in mano all'aido e coinbase quindi domani potrebbero censurare tutto è un'esagerazione tutte le esagerazioni sono sbagliate quindi bisogna anche lì andare nel dettaglio e comprendere no le l'effettiva realtà dove stanno chi è sempre in mezzo non è mai né da un estremo né all'altro gli estremi non fanno tendenzialmente bene all'informazione e alla conoscenza poi andiamo a vedere un po di novità sui layer 1 alternativi nuovi layer 1 in fase di uscita perché anche lì si sta muovendo parecchio solana è al centro di una notizia a mio parere potenzialmente molto impattante su solana stessa e che dire quindi andiamo a fare un po una panoramica complessiva del mercato iniziamo proprio dal grafico dalla price action di ethereum che come vedete dal giorno del merge ha proprio iniziato una fase ribassista delle due belle candelozze rosse belle piene e oggi per la prima volta stiamo cioè oggi stiamo affrontando il primo supporto importante no da un punto di vista un po più ampio il un low di questa zona che se violato a ribasso creerebbe un costrutto di top vedete specularmente a questo è un po una cosa simile quindi qualora dovessimo confermare il costrutto di top entreremmo in una nuova fase alla ricerca di un nuovo low i target possibili il target estremo basso del range low primo target 0057 e poi ci sono tutti i target intermedi c'è da vedere se il low che troviamo sarà più alto sarà uguale o sarà una rottura e ricordo che la rottura da questo grande range di ethereum bitcoin cioè qualsiasi sia la direzione verso cui avverrà sarà comunque un evento importante da un punto di vista proprio del nuovo trend nuovo ciclo che si potrebbe innescare perché questo ciclo di lateralità ethereum bitcoin è durato parecchio tempo e quindi una sua interruzione a favore di una leg up o leg down sarebbe sicuramente da tenere in considerazione per eventuali coperture quindi hedging nel caso in cui dovessimo perderlo a ribasso oppure anche eventualità speculative long su ethereum bitcoin qualora lo dovessimo andare a prendere a rialzo altrimenti si gioca all'interno del range se qualcuno vuole fare trade anche internamente al range chiaramente se dovessimo andare a perdere questo supporto potrebbe essere un primo swing trade short con target le zone inferiori ma massima attenzione proprio perché insomma con questi eventi di volatilità ormai molto frequenti no eventi macroeconomici impattano così tanto sul prezzo che fare delle operazioni di trading diventa cioè ci finisce dentro una componente di aleatorietà che non è mai gradevole ecco quando si fanno dei trade quindi questa è un po la situazione ethereum nel mentre il proof of stake continua il suo corso e dall'altra parte abbiamo i fork proof of work che continuano a fare discretamente schifo nel senso che ci sono tanti problemi di ci sono stati problemi addirittura di connettività al network di servizi poi c'era tutta quella storia del doppio fork che era una cosa ridicola e al momento il valore di eth aspettate che ve lo vado a recuperare dunque aspettate qui ho aperto bitcoin aspettate che lo cerchiamo qui tanto è listato ethv nello spot andiamo a prendere lo spot ethv eccolo 10 dollari quindi ha fatto un bel dan pozzo dalla partenza poi volevo invece anche andare a vedere con voi l'altro fork che è solo su poloniex etf d'altro hanno scelto pure il ticker per fuorviare no etf cioè ba io non lo so allora etf no non c'è più l'hanno tolto già l'andellista cosa è successo mi son perso qualcosa cosa mi sono perso ragazzi cosa mi sono perso è già scomparso ethv ah si chiama ancora thv usdt e questo vale 20 dollari c'è stato il flippening no da parte di questo fork ragazzi non riesco non riesco a guardare queste cose senza ridere qui c'è stata un'altra interruzione boh non lo so ragazzi non so veramente che dire che pensare magari mi son perso che han cambiato ancora fork nel frattempo comunque non cambio opinione sull'effettivo valore di tali fork i miner si sono spostati in buona parte su ethereum classic e 225 terash al secondo è quasi cos'è un 20 per cento circa dell'hash power di ethereum prima del del fork del merge scusate e del fork vedete che era sui 50 adesso è schizzato era arrivato a 300 addirittura poi un po' di miner se ne sono andati magari per speculare sui due fork chi lo sa e adesso si sta stabilizzando sui 230 continueremo a seguire l'altra principale era raven coin che si è stabilizzata pure lei come vedete andiamo a vedere un grafico un po' più di lungo periodo si è stabilizzata sui 20 terash al secondo molto meno di ethereum classic che comunque ha assorbito il grosso dei miner di ethereum altri probabilmente non so se stanno dismettendo l'operatività oppure che che cosa hanno intenzione di fare questa è un po' la situazione volevo solo fare un appunto su un fatto che sto leggendo molto ultimamente sto leggendo molto su l'aido coinbase che controllano la maggior parte dello staking allora questo è vero nel senso loro sono staking provider quindi di fatto loro ricevono dai piccoli staker la loro la loro quota perché loro magari non hanno 32 ether io li vado a depositare su l'aido li vado a depositare su coinbase così faccio staking lo stesso e loro lo fanno per me quindi di fatto non sono loro ad avere gli ether non sono i loro ether sono degli staker lo staker se vuole se gli sta sulle balle perché quello lì inizia a fare cose che non gli piacciono tipo nel peggiore dei casi censurare transazioni dice boh tu censuri io prendo faccio i bagagli e me ne vado su un altro staking provider ce ne sono ben altri no oppure addirittura smetto di fare staking perché piuttosto che andare ad alimentare uno che censura le transazioni preferisco non fare lo staking ok quindi questa è un po' la situazione è un po' una cosa simile ma non uguale alla distribuzione dei del mining di bitcoin che il l'accusa secondo cui tutto l'hash power è in mano a pochi mining pool è infondata non è non vuol dire niente perché i piccoli miner quando vogliono cambiano una riga di configurazione spostano l'hash power altrove se il mining pool inizia a fare cose che non gli piacciono lo stesso vale con lo staking operator è un po' più complicato perché in questo caso magari c'è un po' di unstake time c'è da spostare capitale e così via però non non è particolarmente difficile no cioè tu prendi fai unstake da una parte e stake da un'altra da un altro operatore questo una volta che ci sarà shanghai deployato quindi che ci sarà lo staking bidirezionale questo lo do per scontato quindi questo non dovrebbe da un certo punto di vista farci temere troppo per lo strapotere degli staking operator perché di fatto loro intanto sono i primi a essere interessati e a volere la salute del network perché il loro business il loro profitto viene da lì se la gente non gli dà più gli ether in staking loro non guadagnano più loro guadagnano da quello prendono una commissione sullo staking dei piccoli staker che danno gli ether a loro loro fanno il validatore e applicano una piccola fee se gli staker se ne vanno loro non guadagnano più quindi non gli conviene ok ok può il governo dire o lo fai oppure spegni le macchine ma quel punto lì è la stessa cosa perché se censurano gli staker se ne vanno e loro falliscono e quindi è tanto come spegnere le macchine ok e in più se censurano vengono anche mal visti dalla community e dagli sviluppatori e quindi ne va anche della loro reputazione se spengono le macchine magari si dislocano in altre giurisdizioni dove non ci sono queste imposizioni li salvano la reputazione gli staker sicuramente tornerebbero è sempre un tema di incentivi no il secondo punto molto importante è che l'aido non ha tutti i nodi in america fisicamente l'aido distribuisce il le chiavi dei validatori in mano ad alcuni operator se voi andate su operators dot l'aido dot fai potete vederli tutti vedere quante chiavi hanno ovvero quanti validatori hanno andare a vedere su iter scan le loro transazioni e tutto quanto no vedete sono sono questi l'elenco è questo se voi andate a vedere quella che è la distribuzione geografica di questi validatori pesata per chiavi qualcuno l'ha fatto per noi su twitter ho visto questo tweet con la tabella ho fatto due controlli incrociati non sono stato a controllarli tutti ma mi sembravano corretti e vedete che qua abbiamo la distribuzione geografica dei nodi validatori di laido ok e come vedete ne abbiamo un po in europa un po negli stati uniti un po in bvi caiman un po in in altre giurisdizioni vedete abbastanza ben distribuito devo dire no quindi gli stati uniti che impongono una censura andrebbero ad agire soprattutto su questo 10,3 per cento di validatori di laido che sono fisicamente negli stati uniti gli operators coloro che hanno in mano le chiavi di validazione loro sono quelli che di fatto firmano e validano i blocchi ok queste sono le due cose che ci tenevo a dire lo stesso vale per coinbase coinbase gli viene imposto che o censurano o devono spegnere le macchine il CEO di coinbase ha detto che avrebbe spento le macchine l'ha proprio scritto su twitter se andate a cercare piuttosto che censurare spengo le macchine ma anche se censurasse non spegnesse le macchine fidatevi che gli arriva una campagna di food enorme perdono utenti perdono staker e poi devono spegnere le macchine lo stesso perché tanto non hanno più staker quindi questa è la situazione no è un tema di incentivi l'incentivo a far andare le cose per bene fa bene a tutti coloro che hanno un profitto dipendente dal successo della rete ethereum gli staker sono i primi di fatto no è proprio fatto così per questa ragione ci tenevo a sottolinearlo poi c'era un'altra adesso non la ritrovo neanche più c'era un'altra 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 infografica sbagliata che circolava facendo vedere che soltanto due o tre validatori hanno validato quasi tutti i blocchi ma in realtà quelli lì erano i flash bot che sono delle entità su ethereum non so se avete presente la mev che cos'è no il maximum extracted value una roba del genere sta di fatto che sono dei bot che vanno a far front running di alcune transazioni e accumulano diciamo le le validazioni di tanti validatori quindi anche lì era una un'informazione inesatta se vedete queste informazioni io vi chiedo di ragionare nel senso guardatele magari sono vere magari no come in questo caso magari sono mal mal poste prendetele sempre con spirito critico non guardatele di tutto schifo centralizzazione perché da un lato è vero che c'è una maggior centralizzazione ne abbiamo parlato abbiamo fatto anche un video dedicato e ci sono alcuni rischi da tenere in considerazione e da far sì che non avvengano per nessuna ragione la censura significherebbe il fallimento del protocollo quindi non deve avvenire esiste il rischio non negli staking provider secondo me ma in altre cose di cui avevo già parlato nel video ma non estremizziamo cioè non prendiamo qualsiasi occasione per dire uh etereum adesso è il male è tutto centralizzato e quant'altro cerchiamo di rimanere ecco nel mezzo nella parte giusta dello spettro e questo è quanto andiamo ad osservare un po adesso btc btc allora parapapapapapà dove siamo volevo vedere se c'era qualche vostra domandozza nel frattempo etereum adesso è il male addirittura ragazzi ma perché il male per quale ragione per quale ragione ma quanto durerà questo periodo di cacca questo periodo di cacca durerà fin tanto che la situazione macroeconomica globale non migliorerà quindi non vedo ancora luci all'orizzonte per il momento bitcoin lo aspettiamo a 10k allora bitcoin al momento ve l'ho detto sta andando a cercare di nuovo il range low quindi price action sempre noiosa e io la mia operatività non l'ho mai cambiata per questa ragione perché io non sono un trader di breve non sto a cercare i movimenti le posizioni speculative perché andrei a farmi più male che altro non ho il tempo neanche di stare a seguire l'intraday e tutto quanto quindi io sono posizionato sul lungo termine ho la mia copertura short che è piccola l'avevo aperto un po' di tempo fa cerco di andarla incrementare qualora si dovesse verificare quello scenario di andare a ritestare almeno i 30.000 volevo andarla a incrementare lì proprio in un'ottica di un bear market eventualmente più prolungato una difesa da esso nel mentre che la price action è noiosissima sul range non ha senso star lì a giocare per me per la mia operatività all'interno del range quindi al momento le i due scenari no di movimento effettivo sarebbero quello di perdita dei 18 mila quindi questa zona di domanda vedete che al momento per in varie situazioni ha mantenuto botta cioè ha mostrato sempre domanda e al momento vedete ci stiamo andando vicino un'altra volta e dobbiamo vedere se di nuovo arriva domanda con volumi come è accaduto in passato tac eccetera no oppure se i volumi vengono a mancare e c'è sempre più debolezza bisogna fare attenzione a quello se fuoriusciamo dal range dal range 18.900 in alto 24.300 cambia ovviamente la struttura la struttura può cambiare a ribasso e se cambia ribasso il target più probabile è la zona 12 14 se cambia rialzo siamo in controtrend quindi ricordiamoci che siamo in un macro ribassista guardiamo sembra anche le prospettive più di ampio time frame il primo target sarebbe la zona proprio 28 30 mila no la principale resistenza quest'area qua quest'area qua che se dovesse venire rotta propagherebbe il movimento no ciò che ci serve per cambiare il macro è fare è avere una struttura inversa su un time frame più ampio quindi ad esempio il settimanale il che vorrebbe dire ad esempio andare a testare qua ritestare qua in basso e ripartire no un high higher low e higher high questo sarebbe un costrutto rialzista propagato a sufficienza per innescare qualcosa poi se quel qualcosa si propaga ulteriormente quindi continuiamo a fare massimi e minimi crescenti la forza di questo trend comincia a diventare ancora più importante fino ad arrivare potenzialmente alla risoluzione della fase attuale di mercato ma come vedete è una cosa lenta è una macchina lenta non è che in tre giorni bam appena rompiamo il range a rialzo boh ripartito il bull market no è ben diverso ci vogliono tante conferme e si può certo posizionarsi anche prima no se uno vuole già rotto questo a rialzo posizionarsi in quell'ipotesi c'è un'ipotesi che ha un certo rischio e rendimento e ovviamente lo soppeserà nel trade ci sarà un minor rischio di su minor una minor probabilità di successo intesa come ripartenza di un nuovo ciclo rialzista ma un maggior possibile rendimento no è sempre lì nel trading è il sottile equilibrio tra rischio e rendimento è ciò che porta porta avanti la baracca no bisogna saperlo soppesare correttamente e allocare una posizione di un certo di una certa dimensione in base proprio al rischio e rendimento che ognuno di noi percepisce compatibilmente con quella che ha la sua strategia di trading che deve prevedere certe allocazioni certe serie la gestione del capitale il mantenere il diario e tutto ciò di cui abbiamo parlato anche nel corso gratuito trading consapevole che potete trovare proprio sul tubozzo sul tubozzo poi andiamo a vedere guardate ragazzi atom atom in questo periodo è infuocatum è incredibile non so è sotto steroidi inizia a farmi anche paura perché inizia a estendere no in maniera importante sappiamo che quando qualcosa estende inizia a diventare pericoloso ma è al centro di tante cose è al centro di tante cose vi faccio vedere subito guarda già che ne parliamo dov'è 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 eccolo qua nitro il la prima soluzione di scaling su solana un layer 2 cosa c'entra cosmos direte parliamo di solana perché l'obiettivo di nitro è costruire lo chiamano layer 2 ma non lo so forse è un termine usato impropriamente c'è ancora da capire poi tecnicamente come sarà realizzato ma combinerà solana quindi ha costruito su solana e fungerà da ponte col mondo cosmos e ragazzi solana ricordiamoci che obiettivo ha l'obiettivo di arrivare al consumatore a più consumatori possibile questo è il valore di solana il valore potenziale di solana non la decentralizzazione non chissà che cosa l'avere una blockchain performante quindi deve risolvere alcuni problemi e l'avere un'infrastruttura un protocollo che arriva nelle mani di tanti utenti questo è il potenziale valore di solana il lo smartphone è una mossa che va in questa direzione il discorso con helium potrebbe essere interessante anche lì potrebbero aprirsi tante speculazioni collegarsi col mondo cosmos il mondo cosmos è potentissimo ha un potenziale enorme ancora in buona parte in espresso perché è piccolo il mondo cosmos ma se inizia a parlare con dei colossi come solana in termini proprio infrastrutturali diventa sempre più interessante quindi questo nitro potrebbe essere veramente un trigger per far parlare questi due mondi sono curioso di vedere come ok quindi attenzione perché questa notizia secondo me è una bomba poi c'è da vedere la realizzazione ma solana è veramente al centro di molte cose interessanti in quest'ultimo periodo si può non non apprezzarla più di tanto per i problemi che ha avuto no è stata al centro di tante polemiche ma in dubbio il fatto che sia anche al centro di tanti sviluppi e in quanto tale personalmente la seguo la stossa o l'allocazione sempre piccolina l'avevo anche ridotta proprio visti i problemi ma non escludo di rincrementarla nel momento in cui vedo che tutte queste cose diventano no un una realtà adesso sono ancora in fase di discussione sviluppo ma nel momento in cui diventano una realtà ragazzi è la mission di solana questa quindi insomma contestualizziamo e seguiamo ciò che accade la price action tra l'altro di sol invece se ne strafrega se ne è proprio noiosissima noiosissima da fare schifo è ha avuto quello spike no di rimbalzo sul bottom e poi qualsiasi tentativo da parte della domanda di andare a recuperare terreno è stato brutalmente soppresso quindi non lato price action non è particolarmente esaltante contro bitcoin no io guardo sempre contro bitcoin per capire un po quella che è la trazione relativa che ha la coin in questione contro appunto bitcoin stesso su btc abbiamo detto tutto guardiamo anche il settimanale che ahimè mostra un engulfing bearish proprio brutta mostra una price action brutta qua in quanto abbiamo avuto un recupero di questo di questa resistenza e poi immediatamente dopo la reazione è stata quella di shadow che ha tentato di bucare altri livelli più in alto quello bianco significa che sul daily è una resistenza sul daily gialla sul weekly e poi subito è stata scatta scattapultata scattapultata giù vedete in zona supporto nella candela di questa settimana quindi vediamo come chiuderà se chiude con un body pieno non è certo un buon segno ok se invece si mostra domanda magari va a suippare questi low nova spazzolare qua sotto poi si rimostra domanda che assorbe quello invece potrebbe essere un segno di nuovo che quest'area tiene ma altrimenti non c'è da escludere una continuazione ribassista verso nuovi minimi non si può assolutamente escludere in una condizione attuale vediamo cosa accade mercoledì mercoledì magari cambierà un po di cose quindi attenzione a mercoledì non attenzione al fine settimana stavolta ma attenzione al mercoledì poi prima di arrivare a farvi le domandozze a voi a 5 dollari provo una entry su sol bellissimo cinque quante in dollari sai che non mi ricordo neanche più a quanto sta in dollari 31 beh mazze 5 dollari cosa sarebbe un meno 60 no di più meno 80 per cento ancora parte che il grafico di solana beh ma come i grafici di tutte le al coin se li guardate in dollari sono da brividi da brividi sembrano ripple nel 2017 non so se vi ricordate e sono sono quasi tutti così ragazzi c'è poco da fare il bear market è questo per le al coin bene poi poi cos'altro vi volevo dire a sì vi volevo dire che il mio libro se vi interessasse se voleste leggerlo e ve ne ho parlato già nel nell'ultima in un po di live fa insomma ve l'ho spammato a dovere già quindi non vi sto a raccontare di nuovo tutta la rave la fava ma è disponibile in formato kindle quindi a chi interessasse il formato elettronico e non cartaceo su amazon è disponibile lo trovate costa anche qualcosini in meno dai che che schifo non fa i prezzi purtroppo non li ho deciso io non ho avuto nessun tipo di potere decisionale è stato tutto in mano alla casa editrice quando ti affidi a una casa editrice è così tu hai il nome comunque la legittimità di quella che è la casa editrice ma da un punto di vista diciamo di da altri punti di vista in meno ecco comunque sono molto soddisfatto della pubblicazione perché ho visto che molti di voi mi hanno scritto già qualche feedback positivo ma avete insomma mi avete scritto contattato detto la vostra e lo apprezzo tantissimo continuate a farlo vi prego perché i feedback sono preziosi nel caso in cui dovessi fare un eventuale ristampa no vista la velocità con cui il mondo cripto si muove i vostri feedback sono la cosa più importante che così se c'è qualcosa e secondo voi va modificato va aggiunto va tolto me lo dite e insomma si ci si ragiona se vi andasse anche di perdere quei 5 minuti 2 minuti per lasciare una recensione onesta vi chiedo proprio l'onestà non non per forza positiva nel senso una recensione onesta non non voglio imporre nulla a nessuno se lo fate mi fa estremamente piacere no sempre in ottica di feedback detto questo procediamo con le ultime cose allora le ierun alternativi sei network avrà un airdrop a breve si presume perché oggi ha twittato sta cosa e insomma vedete un po voi cosa può voler dire e magari cioè sembra che l'airdrop sia destinato a chi detiene sol non dimentichiamoci che sei e sulana sono molto amici sono molto amiconi lo stesso nitro tra l'altro è sviluppato su sei guardate dov'è che l'ho scritto l'ho letto eccolo qua vedete incubated by contributors at 6 labs quindi c'è tutta questa interconnessione tra ste chain sta mafia di chain che noi siamo investitori noi dobbiamo seguire quello che accade dove si muovono i soldoni no non non fare ideali non fare se vogliamo fare gli investitori dobbiamo fare gli investitori non affezionarci e non idealizzare cose poi la filosofia di bitcoin è un'altra cosa qui parliamo di ragionare su asset poi cos'altro abbiamo cos'altro abbiamo ah ecco la sec gary gansler non l'abbiamo detto che aveva detto che lo staking potrebbe essere visto come una security che è una cosa che a me per me non ha nessun senso perché lo staking è una cosa completamente diversa dai prestiti dalle non è classificabile come security o cambiate il framework di classificazione e lo rifate adattato a questi nuovi asset ma cercare di incastrare no il lo staking con un qualcosa della finanza tradizionale cioè è veramente un esperimento insensato insensato dai gary fai il bravo stai tranquillo un po che per lui tutto è una security questa bottiglia è una security questo fazzoletti sono una security allora basta dai di cosa stiamo parlando poi ultime notizie all'euro digitale giusto per rimanere noi in tematiche simpatiche l'euro digitale la banca centrale europea ha scelto cinque aziende per aiutarla a sviluppare un primo prototipo di euro digitale tra cui amazon così c'è dentro sempre dappertutto no e quindi vediamo per sviluppare gli e commerce payments ok amazon e l'esperimento avrà luogo tra settembre e dicembre quindi ora da ora a fine anno e si aspettano di completare questa prima fase a marzo 2023 dove valuteranno l'accaduto i prototipi la collaborazione coi partner e lanceranno poi la fase successiva vediamo sto benedetto euro digitale che si va a inserire no anche lui come pezzo del puzzle nel nel percorso regolatorio no il mica il tfr quindi anti riciclaggio il tfr il mica è la normativa unica europea l'euro digitale cercherà un po di inserirsi e di prendere probabilmente più spazio possibile ultimissimissime cose ftx europe si è assicurato la licenza della sci sec che è la sec di cipro che è quella più autorevole in europa ce l'hanno tutti i toro se guardate tutti i principali broker finanziari hanno questa licenza cif che sta per cyprus investment firm quindi di fatto ftx europe il ramo europeo di ftx diventa una investment firm pienamente autorizzata e regolamentata in europa sotto la normativa mifid 2 è l'unico exchange globale sta scritto proprio qua dov'è 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 non lo trovo eccolo è l'unico exchange globale che ha una piena regolamentazione in europa sotto la licenza mifid 2 ok che è una insomma uno standard notevole non so se avete presente tutte le menate no che l'europa che l'europa impone per le regolamentazioni quindi ottimo passo avanti anche per ftx e questo è un assist ragazzi mi spiace ma la sincerità prima di tutto questo è un bel assist per scillarvi ancora la promo che se vi interessa iscrivervi a ftx se lo volete usare insomma se se vi interessa come exchange c'è ancora questa promo 30 euro in regalo se vi registrate con il mio link fate il kyc depositate almeno 300 euro e fatto un'operazione di converti quindi da wallet converti c'è proprio il tastone e nel giro di sette giorni vi ricevete il regalozzo di 30 euro proprio e urli nel vostro account prelevabili tra daci fate quello che volete quindi non è un bonus non è farlocco è proprio quello che le basta basta ip games lista il suo primo videogioco nft vabbè questa era una notizia in più adesso passo la palla voi dai parliamo un po facciamo due due chiacchiere facciamo due chiacchiere allora dampino in diretta cosa sta succedendo ragazzi dampino in diretta su btc vediamo che ci va a combinare questo fine settimana sarà sudato lo so dampino assorbito è attenzione attenzione qua vedo dell'assorbito vedo della shadow vedo della shadow tra l'altro guardate questo trend interessante sul brevissimo no abbiamo un canale ribassista su time frame qui ci sbizzarriamo in price action su time frame di brevissimo un canale ribassista con ogni low vedete caratterizzato da una shadow prominente quindi sembra quasi a voler proprio usare la sfera di cristallo a voler impostare a tutti i costi un'operazione potrebbe essere un bottomino locale di breve no abbiamo comunque volumi in calo abbiamo shadow ad ogni lower low sul breve e quindi si potrebbe quasi azzardare no questa cosa con lo stop loss eventuale qua sotto che è il nostro supporto principale e così via ma ragazzi non sono un trader intraday quindi come sempre non sono consigli finanziari fatti bravi ragionate riflettete e decidete autonomamente che chi fa da sé fa meglio poi 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 dunque dunque in questa fase i mercati tradizionali dettano legge i decrypto seguono indipendentemente dalle loro novità verissimo ciao luke pensi che per via dei criteri sg eventuali posizioni istituzionali possano spostarsi da bitcoin a ether guarda ether sicuramente cavalcherà questa narrativa già lo sta facendo vedi world economic forum ma può essere può essere sul breve però attenzione questa è una una manovra che secondo me impatta sul breve medio periodo poi sul lungo termine bitcoin diventerà sempre più green ricordatevi questa cosa quindi il discorso dei criteri sg prima o poi scemerà perché bitcoin punta a diventare sempre più green è importanti ok luke aperto con tutti i risparmi leva 120 per ottima mossa ma solo 120 per ma arriva fino a 125 alcuni exchange se alzano 100 punti base ci sarà da divertirsi è la verità ci sarà da divertirsi ci sarà da divertirsi e potrebbe esserci un flash crash potrebbe esserci un'altra leg down se luke ne pensi di algorand secondo te può ancora avere senso con tutte queste chain veloci come solana sei aptos allora si algorand ha sempre senso secondo me ma per due motivi perché è istituzionalizzato io le chiamo le chiamo qui quelle blockchain enterprise no aziendalizzate con dietro molta finanza molti capitali con molti agganci no all'interno di altre aziende e quindi avranno sempre una loro strada no magari non spiccheranno mai per decentralizzazione non diventeranno uno standard in quel senso ma magari per gli utilizzi di circuiti di pagamento per le cbdc ad esempio per alcuni utilizzi più aziendali secondo me è un qualcosa di valido no e quindi è il suo scopo nel mondo ce l'ha poi detto questo la tokenomics di algo a me non piace ancora perché c'è ancora un vesting molto grosso da rilasciare questo è il motivo che mi spinge a non avvicinarmi ancora proprio lato allocazione il fatto che voglio un profile mostri che non ci sono altre zone di alti volumi più in basso non indica che quella sarà più probabilmente la direzione del prossimo movimento ma in realtà sai se il voglio un profile ti indica dei vuoti diciamo adesso vabbè bisognerebbe inquadrare una zona più ampia nel caso facciamo sul settimanale che si vede un po meglio allora inquadriamo fino all'ultima l'ultimo rialzo poi qui vabbè sono i volumi di ftx che sono cresciuti tantissimo nel 2021 potremmo fare binance un po' più ok dai sì ci sta allora le zone di vuoto tipo questa di solito indicano che qua non sono stati fatti molti scambi no quindi di fatto tu non hai aree di atterraggio la prima area di atterraggio è qua e questo va a rafforzare ulteriormente no il discorso del del supportone in zona 12.000 che è la prima area di atterraggio sotto analisi volumetrica poi adesso non so se consideriamo anche questo picco del 2018 ma ormai è svecchiato secondo me ecco vale la pena non andare troppo indietro con la distribuzione e quasi c'è una zona di vuoto quindi la rottura di quest'area e muoversi qui con buona probabilità farà sì che l'attraverseremo tutta questo è un po' il discorso che io personalmente faccio lato analisi volumetrica ok tac benissimo 12k ottimo avete venduto le nonne attenzione ragazzi fate i bravi che il bottom non lo conosce nessuno potrebbe essere anche 5k per quanto ne sappiamo quindi la nonna tenete la collaterale ancora per un po' poi 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 se è vero che il mercato prezza sempre tutto si può dire che il merge non è stato visto in maniera positiva soprattutto più che il discorso minor il vero problema sembra la decentralizzazione cosa ne pensi guarda io penso che il mercato è arrivato al merge in modo positivo in modo euforico guarda allora tac vedi se tu ci guardi l'avvicinamento al merge è stato positivo quindi il mercato prezzava un esito positivo sulla centralizzazione potenziale che a cui si va incontro col proof of stake non è una novità no è saputa da sempre dall'alba dei tempi la proof of stake funziona in quel modo quindi non l'abbiamo scoperto oggi ieri né un mese fa è sempre stato saputo da tutti conosciuto da tutti quindi già apprezzato dal mercato poi magari il mercato ti prezza delle narrative di breve della fad che viene sparsa in giro ma quello è rumore rumore di fondo da filtrare no al momento la cosa che sta generando questa volatilità secondo me è più un fatto a speculativo for mica for magari in tanti avevano comprato proprio per ottenere la coin forcata e dampare tutto subito dopo posizioni di copertura posizioni puramente longo short volatility no e quindi tutta questa tutto questi volumi mossi in questi giorni probabilmente in parte sono dovuti a quello e che altro e il resto e poi è la questione macroeconomica no bitcoin ha risentito negativamente degli ultimi dati dei nasdaq ha aperto ieri in maniera negativa i bitcoin e tiriamo hanno seguito e tiriamo lo fa in modo un po amplificato ora come ora no magari adesso che non non c'è più la narrativa dell'andiamo verso il merge magari etereo un trainer a meno il mercato prima trainava lui il mercato e quindi adesso continua ad essere bitcoin in versione amplificata in questi termini ci sono tante possibili interpretazioni e quindi questo è ma fatti più che cercare l'interpretazione giusta sul breve che poi lascia il tempo che trova perché è difficile trovarla l'importante a guardare il quadro di lungo periodo e capire se il valore di etereo un rimane sempre valido no il discorso è sempre quello più probabile che si stia apprezzando il punto base della fedi 100 punti va è possibile possibile anche quello che stanno iniziando a apprezzarlo il dump di etereo un l'ho visto come un classico sell the news può essere anche quello però sai anche lì era tutto molto banale molto banale come discorso cioè dire sell the news non è così facile c'è una magari una componente c'è ma tutti lo dicevano quindi tutti se lo aspettano non lo so non so cosa dire cioè non è così facile ecco ebbene ragazzi molti pensano che iter possa potrebbe essere un cigno nero addirittura e un cigno nero nel senso cioè se qualcosa va estremamente male un cigno nero bloccarla chain censurare parecchio e non riuscire a smettere di censurarla quello ma poi cigno nero è per definizione una cosa che non ci immaginiamo no quindi se già ce lo possiamo immaginare non è un cigno nero però non lo so attenzione alle estremizzazioni vi dico solo questo vi dico solo solo questa cosa non quando se vedete troppo rumore nel senso qualcuno che grida diciamo tra virgolette probabilmente sta cercando solo di attirare l'attenzione voi usate sempre il senso critico prende soppesate sempre tutto sia da una parte che dall'altra sia nel positivo che nel negativo e cercate di trovare la via di mezzo secondo te quando è che l'assenza di emissione dei miner si sentirà nel lungo 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 tempo non cioè non è una cosa dall'oggi al domani no è una cosa di lungo tempo lungo tempo poi poi allora io vi volevo dire anche un'ultima cosa per divertirsi in questo periodo no se si vuole fare qualche esperimento così giusto per noia no abbiamo detto non bitcoin non si muove non so cosa fare subito c'è il come si chiama il grid bot e ci sono 0 fi sullo spot oggi ho fatto questo uno più uno ho detto ma facciamo sta prova vediamo come va vediamo e quindi sono tentato di buttare in piedi un bottino un grid bot che così mi va a zero fi e vediamo che cosa tira fuori voglio fare sto esperimento ha depositato un cipino su su bit gate vi farò sapere come va così proprio a puro scopo ludico neanche proprio per noia no sapete quando non sai cosa fare vuoi diversificare un po vediamo un po che cosa mi combina non so se l'avete come funziona il grid bot di bit gate è valido perché anche qui c'è il setting automatico manuale quindi sono sono indeciso non so ditemi ditemi anche voi se avete provato qualcosa insomma fatemelo sapere nei commenti io dovrei avere tra l'altro nel in descrizione anche il il referral link di bit get se non erro che darà lo sconto del 15 per cento sulle fi adesso sono a zero quindi zero rimane sempre zero ma se vi interessa l'exchange ha un bel po di di feature è perché a parte il grid bot del copy trading che anche lì non non l'ho mai provato magari lo proverò un bel po di di futures derivati mica deriva c'è veramente la qualunque la qualunque adesso mi sto mettendo lì a spulciarlo a dovere per sbattervi fuori un video prima o poi lo farò ne ho molti in coda ma ce la faremo ragazzi ce la faremo detto questo detto questo io vi saluterei vi saluterei costa lateralità il grid bot è top esatto esatto infatti per quello mi mi faceva venire voglia di provarlo poi su i grid bot su ethereum e btc su binance sono a zero fi davvero ma su boost no ma è vero che adesso ci sono le promo a zero fi anche altrove interessante 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 vabbè dai ci giocheremo ci giocheremo ragazzi ci giocheremo il copy trading è una mezza fregatura è più che altro va a caso nel senso se uno è sempre andato bene e poi lo c'è ti inizia ad andare male tu lo copi quindi è questo è questo è ragazzi e tiri un boost su tricommas bravo 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 hai ragione che c'è il che tratto tricommas diciamo che è un pelino più pro come grid bot è notevole è notevole ragazzi vi faccio un carissimo saluto vi auguro un buon weekend e speriamo speriamo che insomma non sia un weekend rosso e ci sia solo il negroni rosso come al solito questo è sempre il nostro auspicio del weekend e anche questa volta noi ci speriamo amici di nuovo vi auguro una buona serata ci rivediamo lunedì sempre qui sempre sul petto sempre live e verso il fomc ragazzi tensione palpabile buona serata